Il Parlamento Europeo si è unito alla Commissione Pesca per la tutela di una nostra risorsa che è importante per la sovranità alimentare italiana, che è la questione delle vongole, la taglia minima delle vongole. La Commissione Europea fa un atto delegato con la quale concede una deroga per la pesca della taglia della vongola a 22 mm invece che a 25 mm. Gli spagnoli, di fronte a questa eccezione che viene fatta per l'Italia, eccezione basata su ricerche scientifiche appropriate, supportate da due importanti organismi scientifici, gli spagnoli decidono di fare un'obiezione, obiezione che siamo riusciti temporaneamente a bloccare ma hanno chiesto comunque due mesi per poter valutare queste ricerche. Oggi finalmente in questo incontro che abbiamo fatto con tutti gli aerodeputati della Commissione Pesca appartenenti ai gruppi politici e alla rappresentanza italiana abbiamo concordato che è importante fare squadra per tutelare questa importante risorsa che per noi è fondamentale soprattutto per l'Alto Adriatico ma per tutta l'Italia. Dovrebbe partire, scade il 22 dicembre, quindi abbiamo già il primo gennaio però entro il termine ultimo per poter fare questa eccezione, per decadere la possibilità di fare l'obiezione entro il 22 dicembre. Loro hanno già chiesto i due mesi e quindi devono provare entro questi due mesi che scadono il 22 dicembre la validità della loro obiezione.